I carabinieri della compagnia di Urbino coordinati dal comandante Renato Puglisi in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Sasso Corvaro e Pian di Meleto hanno arrestato in flagranza di reato per estorsione una 45enne nordafricana che aveva ordito ai danni di un quarantene di Sasso Corvaro un ricatto bellebuono. Il reato di estorsione definito dal comandante Puglisi nella conferenza stampa di questo pomeriggio alquanto insolito per queste zone si è consumato alla luce di una breve relazione della donna avuta nel mese di agosto scorso con l'uomo sposato e con figli. La donna residente nel Riminese separata già con precedenti di diversa natura però è titolare di un'attività commerciale aveva chiesto all'uomo 3.000 euro in contanti per non divulgare alla famiglia di lui i particolari della loro relazione documentata con foto e messaggistica molto esplicita. Dopo un pressing della donna durato più di due settimane l'uomo prima di cedere ha pensato bene il 16 settembre scorso di rivolgersi con fiducia ai carabinieri essendo la situazione ormai fuori controllo. Dopo i dovuti riscontri e valutata la pericolosità della situazione sono stati i carabinieri stessi che hanno consigliato di far credere alla donna di accettare la sua richiesta architettando però per lei una vera e propria trappola. Ieri pomeriggio poco dopo le 15 l'uomo si è recato all'appuntamento dietro indicazione dell'extracomunitaria sul luogo stabilito ha portato i soldi tutti di piccolo taglio ed in contanti e lasciati in una busta di plastica come gli aveva ordinato di fare la 45enne. Appena depositati i contanti di lì a poco è apparsa la donna che ha raccolto la busta e si è allontanata senza sapere che i carabinieri erano lì appostati e controllavano tutto il perimetro. Pochi istanti per verificare che i soldi fossero proprio quelli dell'uomo che aveva inserito nella busta che per la nord africana sono scattate le manette e i soldi restituiti al legittimo proprietario. Questa mattina il processo per direttissima ha terminato con il divieto di avvicinamento e comunicazioni con il quarantenne.